papà papà apri eccomi arrivo Carlo che ci fai qui? ma non devi lavorare? si ma ho preso un giorno di permesso dove siamo le valigie? partiamo? papà santo cielo ci stiamo già aspettando a Villa Claudia non ti ricordi? ah si la casa di riposo non ho ancora fatto le valigie lo vedo dai e questi? ah già volevo andarci con tua madre ma poi vabbè almeno non servono più sarà meglio buttarle no no aspetta dammeli dammeli ci penso ancora qui ancora qui tutto vorrei una vita per liberare questa casa e questi qua? non li vedevo dall'ultimo trasloco quando sarà passato? 30 anni senti ma non possiamo evitare questa cosa? no no non posso lasciarti qui da solo e poi belleghi ti piacerà stavi bene potrei dormire fino a tardi senza doverti preoccupare della spesa delle bollette del condominio poi c'è un parco stupendo hai visto le foto no? sai che passeggiate? la vita loca ormai non si può più nullare è tutto pagato è solo un giorno domani sarò pronto lasciami salutare questa casa per l'ultima volta tanto pago io no? per favore questa casa è stupenda sì un po' piccola però carina mi piace sì non so davvero come sdebitarmi con tuo padre ma ci pensi? noi? anziani? tutti rugosi però insieme cosa potrei chiedere di più? viaggio di nozze ad esempio? ma qui noi questa è la nostra luna di miele te lo giuro appena avrò abbastanza soldi partiamo una crociera nei fiorti norvecesi e la notte cade giù sui tuoi occhi così belli ah ma bravo allora com'è andata oggi? mi hanno licenziato come? mi hanno consegnato la relazione in tempo di nuovo e poi le solite urla e i soliti riprodri questa volta non mi sono riuscito a trattenere ti sento giù non preoccuparti può capitare e poi oggigiorno tutte le aziende hanno bisogno di un ingegnere bravo come te sento al mare andrà tutto bene andrà tutto bene andrà tutto bene Allora come è andata a raccontare? Non so, non so. Avanti via papà cosa abbiamo fatto oggi? Mamma mi ha comprato le scarpe nuove. Quelle scarpe che ti avevo detto che non potevo comprarti? Non c'è problema gliele ho... Se ti dico che non posso ci sarà una ragione moglie. Volevo fargli un regalo. Ci sarà o non ci sarà? Insomma non... Rispondi. Non c'è bisogno di... RISPONDI ho detto! Si può sapere moglie. Gli avevo detto di no. Non lo sapevo. Ma che c'è? Ti diverte forse? Cosa? Non pensi sia già abbastanza umiliante così la situazione? Che che io mi faccia mantenere da mia moglie la pietà verso quella nullità di tuo marito. Eh sì sì eccola anche adesso! Smettila! Io o tu ma che cosa stai dicendo? Noi! Siamo noi alla pari! Qui. Solo qui ho bisogno di una fietta di carne o di un viaggio in più. Solo qui sono l'uomo di casa. Solo qui ti disprezzo. Ma io qui non ci posso entrare! Ma sai una cosa? Non è pietà. È vergogna. Quando dici cose del genere posso solo vergognarmi di averti sposato. Ciao! Grazie. 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 Grazie.